Il mio formaggio preferito è il gorgonzola Ho qui del radicchio, quindi risotto, gorgonzola e radicchio Caramellato però Taglio la cipolla e la metto all'interno della ciotola del Cooking Chef con burro e rosmarino Velocità 3 e uso la frusta gommata Mi raccomando, la ciotola deve essere ben calda E mentre Cooking Chef lavora per me, io taglio i funghi Li metto nella ciotola e continuo a cucinare Aggiungo un po' di fior di sale Velocità 3 E quando i funghi sono appassiti, sfumo con il sake e lascio cuocere ancora per qualche minuto Con la frusta gommata non si attacca Adesso caramello il radicchio Mi basta versare lo zucchero nella ciotola del Cooking Chef Aggiungo sale, pepe e aceto E quando il tutto diventa caramellato, aggiungo il radicchio Faccio tostare il riso con il burro E sfumo con il brodo fino a completa cottura Per mantecare aggiungo il gorgonzola e il parmigiano Ed ecco fatto, non resta che impiattare Metto il riso nel mio piatto da portata Con il coppapasta posiziono i funghi Metto qualche noce Una chicca Attorciglio il radicchio caramellato E metto qualche fiorellino commestibile per dare un po' di colore Con Cooking Chef scateno la mia fantasia in cucina Grazie per la visione